Come ha spiegato benissimo l'assessore Leon, le luci vanno, come dire, restaurate, sono luci importanti, meravigliose, stanno operando per metterla a posto. Con IREN abbiamo già parlato, loro ovviamente metteranno delle luci sostitutive, magari non bellissime come quelle d'artista, ma sicuramente di grande pregio. Anzi dobbiamo ringraziare il presidente di IREN, Peveraro, che subito si è attivato, come sempre Torino e come sta facendo molto in questo momento, siamo tutti insieme per cercare di migliorare la nostra città.